Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta e ultima giornata dei lavori della Summer School di filosofia. Anche questa mattina tocca a me presentare perlomeno l'inizio di questi lavori in attesa di Giuseppe Pintus e degli altri partecipanti in presenza dalla biblioteca comunale di Castelsardo. Quindi un benvenuto a tutti voi, in particolare ai relatori di questa mattina. Questa mattina appunto i lavori verteranno con lezioni che hanno per tema prospettive attuali di estetica e il primo ad intervenire questa mattina sarà il professor Vincenzo Trione. Il professor Vincenzo Trione è professore ordinario di arte e media e di storia dell'arte contemporanea presso l'Università Yulm di Milano. È preside della Facoltà di Arti e Turismo e coordinatore del dottorato di ricerca in Visual e Media Studies. Collabora al Corriere della Sera ed è stato commissario per la quattordicesima edizione della Quadriennale di Roma nel 2003 e direttore generale di Valencia 09 Confines, Passages de las Artes Contemporaneas nel 2009. È stato curatore del Padiglione Italia per la 56esima Biennale di Venezia, Arti Visive nel 2015. Dal 2013 dirige il Dipartimento di ricerca e formazione del Museo d'Arte Contemporanea madre di Napoli. È presidente della Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. Già membro del Consiglio Scientifico della Treccani e direttore generale dell'Enciclopedia Treccani dell'Arte Contemporanea. Ha curato mostre in musei italiani e stranieri come ad esempio il Siglo de Giorgio de Chirico presso l'IVAM di Valencia nel 2007, Salvador Dalì nel 2010 e Alberto Savinio nel 2011, entrambi a Palazzo Reale di Milano e postclassici al Foro Romano e al Palatino di Roma nel 2013. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo nel 1999 il Poeta e le Arti, Apollinaire e il Tempo delle Avanguardie, Milano Guerini Associati. Nel 2001 Dentro le Cose, Ardengo Soffici critico dell'arte, per Bollati Boringhieri. Nel 2005 Atlanti metafisici, Giorgio de Chirico, arte e architettura critica, Milano Schira. Nel 2009 Giorgio de Chirico, le città del silenzio, architettura, memoria, profezia, Milano Schira. Nel 2014 Effetto città, arte, cinema, modernità per Bombiani. Nel 2016 con Montinari Contro le Mostre di Einaudi e nel 2019 l'Opera Interminabile, arte del ventunesimo secolo, anche questo per Einaudi. Io non indugerei oltre e passerei la parola a Professor Trione. Buongiorno, mi auguro che mi sentiate, aspetto un cenno da voi soltanto di conferma. La sentiamo professore, ecco. Perfetto, grazie, grazie dell'invito e devo dire mi sarebbe piaciuto essere lì in presenza con alcuni amici filosofi, qui vedo da lontano Francesco Valagusta che colgo l'occasione per salutarlo, ovviamente anche gli altri amici filosofi che mi hanno invitato in questa occasione. Spero davvero che ci sia presto il prossimo anno, semmai anche l'opportunità di essere in presenza, come qualche tempo fa mi era capitato, ricordo ancora con grande piacere, delle giornate a Castelsardo con Francesco, con il Professor Massimo Donà, che colgo l'occasione, non so se sia anche collegato per salutarlo e anche Massimo Adinolfi che ringrazio di questa occasione. Allora, io provo a svolgere con voi una riflessione su qualcosa che è in atto, qualcosa che è in atto che potrebbe rappresentare una sorta di piccolo terremoto in un sistema segnato da liturgie, da mitologie, da ritualità in qualche modo consolidate. Sono quelle liturgie, quelle ritualità e quelle mitologie che segnano con forza quello che è stato definito da più parti come l'art world, cioè il mondo dell'arte. L'art world si presenta come una sorta di complessa miscela di avanguardie, di conformismo, di sperimentalismo e di dogmatismi. In fondo l'art world è un complesso ingranaggio che sembra girare a vuoto su se stesso. I tempi nei quali l'art world celebra le proprie, diciamo, la propria volontà di potenza, in maniera spesso schizofrenica, sicuramente sono le grandi rassegne espositive internazionali. In modo particolare mi riferisco alla Biennale di Venezia, alla Documenta di Castle e a tutte le Biennali che si organizzano periodicamente in giro per il mondo. Si tratta di mostre che hanno l'ambizione ancora di anticipare indirizzi e orientamenti, provano a intercettare indizi del nuovo che avanza, ma in realtà oggi sembrano replicare stancamente ritualità convenzionali e appaiono indifferenti ai radicali cambi di paradigmi conoscitivi che oggi sono in atto. Queste grandi esposizioni internazionali sembrano ancora legate a un'ottica, a una logica tipicamente novecentesca e sembrano portate a muoversi come se fossimo ancora nell'epoca di Duchamp o di Warhol. Inclini ad assecondare le regole dell'art system. Alludo con questo concetto a quella catena che collega indissolubilmente, in maniera talvolta perversa, direttori di musei, critici, mercanti, collezionisti e dealers. Se dovessi dire in una battuta, la Biennale di Venezia e la Documenta di Cassio, vi sto parlando un po' dei grandi templi dell'arte del nostro tempo, oggi appaiono perversamente simili al maniero del destino dei Tartari, alla fortezza Bastiani inventata da Dino Buzzati o alle agenzie di viaggio che oggi sono condannate a una condizione in qualche modo residuale. sembra che esattamente come la fortezza Bastiani di Buzzati, l'artword sia chiuso a tutto ciò che accade fuori. C'è un diciamo un fucoltiano mondo di fuori che pressa al quale, di fronte al quale invece queste, questi manieri dove l'arte contemporanea tende a consolidare il proprio potere e i propri comportamenti e le proprie consuetudini, cercano di respingerlo. Intanto, intanto, c'è un mondo che intorno alle fortezze Bastiani del mondo dell'arte contemporanea, ruotando su se stesso, si sta facendo paesaggio inimmaginabile. Per capire quello che sta accadendo, vorrei partire, vorrei muovere da, diciamo, da alcune pagine che secondo me non sono di un filosofo, non sono di un critico d'arte, ma secondo me fotografano in maniera molto acuta il rapporto che oggi, il tema di questa, di questa mia, del mio breve intervento sarà sostanzialmente sul rapporto tra mondi e oltremondi, tra materialità e smaterializzazione nel mondo dell'arte contemporanea. Per affrontare il rapporto tra mondi e oltremondi, voglio muovere dalla parte conclusiva di un saggio che a parer mio rappresenta tra le più lucide interpretazioni, chiaramente sul registro di carattere strettamente letterario, che sia stata data in questo, negli ultimi anni, di quello che sta accadendo intorno a noi. Mi riferisco a un saggio di Alessandro Baricco, secondo me molto felice, Cat Game, nel quale Baricco si interroga nella parte conclusiva sull'impatto determinato dalle conquiste del web e del digitale sui vecchi, così li definisce, oltremondo, ovvero su quegli spazi nei quali gli artisti storicamente avevano costruito delle realtà alternative, alludendo alla letteratura, al teatro, all'arte. Assediati, si chiede Baricco, i vecchi oltremondo, appunto letteratura, teatro e arte, spariscono o riescono a resistere, oppure si adattano al nuovo habitat? Secondo me questa è la vera domanda, è la vera domanda dalla quale vorrei partire, ovvero letteratura, teatro e arte, noi ci soffermeremo ovviamente sul mondo dell'arte, al cospetto di una rivoluzione che sta ribaltando in maniera probabilmente irreversibile il nostro modo di stare al mondo. Come si rapportano? Beh, io credo che la geografia che si disegna dinanzi ai nostri occhi ci consegna alcuni artisti che continuano a comportarsi come avevano fatto per secoli, come se non ci fosse nulla. Vi cito uno degli autori che io amo di più, chi ho interrogato di più, di cui tra l'altro avevo parlato proprio a Castelsardo qualche anno fa, che è Anselm Kiefer. Kiefer è un artista assolutamente indifferente, almeno all'apparenza, rispetto a questo tsunami che dagli inizi del 2000 ha invaso le nostre sicurezze. altri artisti, invece, capiscono che è avvenuto qualcosa di epocale con cui occorre fare i conti. Consapevoli del fatto che viviamo, cito Baricco, in un mondo in cui c'è molto più traffico di una volta, provano a salvaguardare l'identità dei vecchi oltremondo in grado di trasmettere, di assicurare la trasmissione di saperi, di conoscenze, di memorie, di pratiche, di metis, potremmo dire, e insieme si aprono ai nuovi oltremondo. Cioè provano a intrecciare, cito ancora Baricco, la realtà di oggi e i sogni di ieri, il benessere di oggi e l'audacia di ieri, l'intelligenza di oggi e il sapere di ieri, infine la patria di oggi e quella di ieri. Per capirlo vorrei invitarvi a pensare all'utilizzo che molti artisti contemporanei stanno facendo di alcuni dispositivi di intermediazione, ovvero di piattaforme digitali destinate alla gestione di documenti e di dati. Si tratta di straordinari media dove si producono, si documentano e si distribuiscono immagini e testi in attesa delle reazioni e delle risposte di un pubblico in qualche modo liquido che sono i followers. In modo particolare è un, vedete, scelgo come studio di caso, sceglierò due studi di caso in modo particolare. Il primo è sui quali ancora c'è poca attenzione da parte della critica. Il primo caso è l'utilizzo artistico che tanti, tra i maggiori autori contemporanei, stanno facendo di Instagram. Attenzione, tutti probabilmente conoscete le macro differenze che esistono tra Facebook, Twitter, ma Instagram è ovviamente innanzitutto, tra i social, il luogo dove l'immagine, diciamo, è un luogo di una sorta di riaffioramento di una nuova iconotestualità. E tanti artisti, ed è accaduto soprattutto durante il Covid, hanno cominciato a pensare Instagram come un, avrebbe detto Malraux, un museo senza pareti. proviamo a capire. Partiamo proprio da quello che è accaduto durante il Covid. È stata una stagione per gli artisti assolutamente drammatica. Mostre cancellate, fiere annullate, mercato profondamente in crisi. Che cosa fare? Ecco dunque che una curiosità che era affiorata con grande forza dai primi, diciamo, dal 2010-2015, è diventata una necessità linguistica. Ovvero, molti artisti hanno iniziato a sviluppare delle potenzialità non ancora sfruttate, in chiave, vi ripeto, artistica di Instagram. Alcuni se ne sono serviti per una semplice forma di autopromozione, ma non è quello che a noi interessa. Altri hanno utilizzato Instagram per svelarsi, altri per raccontarsi nel proprio privato, altri ancora per dar voce a quella che Tiziano Scarpa ha chiamato l'ego calisse contemporanea, questo bisogno, questo trionfo dell'ego. Altri infine per dare ascolto, dare voce a delle urgenze testimoniali. Ma quello che a me ha interessato maggiormente è che molti artisti hanno utilizzato Instagram per far vedere quello che ci è inibito storicamente. Ovvero, ci hanno consentito di entrare dentro i propri studi, dentro i propri atelier, di mostrare il loro lavoro nel farsi. Talvolta hanno anticipato installazioni, quadri, sculture, cui si stavano dedicando. Altre volte hanno rivelato delle proprie riflessioni sulla scelta di un colore, di una tecnica, ma l'aspetto interessante che hanno sempre, nella maggior parte dei casi che a me hanno interessato in maniera più forte, hanno esibito delle opere non finite, ma lavori colti nella propria fase processuale e lo hanno fatto servendosi non di immagini in alta definizione, ma di immagini in povere, a bassa intensità, accessibili, che grazie alla compressione e alla leggerezza dei formati possono migrare, disseminarsi, circolare con velocità ed essere condivisa. Un grande poeta molto attento all'arte, che era stato, che è Valéry, aveva anticipato questo indirizzo e si era chiesto, e perché non concepire un'opera d'arte come un'opera d'arte, l'esecuzione di un'opera d'arte? Parole che io ho collegato alla riflessione di un filosofo dell'arte, secondo me tra i più acuti del nostro tempo, che Boris Groys, davvero a parer mio è un passaggio necessario per chi voglia capire quello che sta accadendo oggi. È a metà strada tra il filosofo dell'arte, il critico d'arte, con una fortissima matrice ideologico-politica. In un libro che, per chi non l'ha letto, vi suggerisco di farlo quanto prima, è stato tradotto molto male anche in italiano, intitolato In the Flow, Boris Groys si afferma che l'artista di Balzac, che non era in grado di presentare il suo lavoro, non avrebbe avuto nessun problema all'interno di queste nuove condizioni. La documentazione degli sforzi per fare un capolavoro sarebbe diventata il suo capolavoro. Se poniamo in dialogo la riflessione di Valéry che prelude a quella di Groys, probabilmente riusciamo a capire che cosa sta accadendo dentro una piattaforma che, vi ripeto, non ha ancora catturato l'attenzione teorico-critica degli interpreti della contemporaneità, che è rappresentata appunto da Instagram. Per quale ragione, qual è il senso dell'interesse che tanti artisti, ma alcuni tra i più grandi artisti contemporanei, dai Weiwei a Danish Kapoor, da Banksy a Cindy Sherman, da Damien Hirst a Shirin Neshat, dall'Abramovich fino a Jayar, a Yoko Ono, a Murakami, a Thomas Saraceno, a Jeff Koons, a Olaf Ureliasson, sono tutti artisti che affiancano al proprio lavoro in qualche modo dentro le istituzioni, dentro l'art system, dentro l'art word, questo lavoro corsaro. Qual è il senso? Per quale ragione? È solo un divertissement? No, non è solo un divertissement. Rappresenta, a parer mio, il tentativo di portarsi radicalmente al di là, e qui guardo Francesco Valagussa, di certe profezie beniaminiane. È un tentativo, a parer mio, implicitamente, cioè non c'è una consapevolezza teorica, ma di superare l'idea in qualche modo progressiva della storia, di cui beniamin, per esempio, nell'opera d'arte, si era fatto relativamente al processo di sviluppo dei linguaggi artistici, di cui beniamin si era fatto in qualche modo interprete critico. Proviamo a capire, per il senso di questa affermazione, che non vorrei che vi suonasse come apodittica. Per secoli, dal rinascimento in poi, gli artisti hanno avuto come principali committenti una ristretta elite, poteva essere o ecclesiastica o laica, culturalmente preparata, che non avvertiva in alcun modo il bisogno di farsi consigliare da eruditi. Ma già dal Medioevo in poi accade questo. Se pensate alla Siena di Duccio da Boninsegna, tra Duccio da Boninsegna e il suo e il pubblico, i suoi committenti, in fondo non c'erano grandi differenze. C'era un immaginario comune che faceva sì che il committente, l'artista e il pubblico appartenessero a una stessa coine. Questa galassia, nel Novecento, in qualche modo questo sistema, diciamo dalla metà dell'Ottocento in poi e in maniera deflagrante dalle avanguardie in poi, è entrata profondamente in crisi. Il linguaggio artistico, lo sapete bene, è diventato progressivamente sempre meno chiaro e leggibile, facoltosa ma incerta sul proprio gusto. la borghesia ha sentito la necessità di affidarsi a degli interpreti, i critici appunto, per decifrare il senso di sintassi che talvolta apparivano ermetiche, criptiche, ostiche. Così all'interno, all'opera da, intorno all'opera d'arte è cresciuta una rete composita formata da critici, da interpreti, da direttori di musei, da galleristi, da mercanti. Oggi questa galassia, che ha retto per più di un secolo, sembra che si stia dissolvendo. Ogni selezione ragionata viene nel sistema del web e dei social radicalmente messa in crisi. Ricordate prima vi parlavo delle agenzie di viaggio? Oggi chi per fare un viaggio sceglierebbe di andare in un'agenzia a prenotarlo? Forse diciamo qualche anziano signore ma pochi altri. Paradossalmente è quello che sta accadendo, che si appresta ad accadere anche nel mondo dell'arte. Ovvero il web, che lo sapete, è una struttura di mediazione universale, ci si illude di conoscere tutto, ci si illude di avere tutto a portata di mano, ci si illude di poter fare a meno di qualsiasi filtro e di qualsiasi esperienza. Dinanzi a questi scenari il sistema tradizionale dell'arte appare spesso indifferente e sordo. È come se gli artisti e più che gli artisti il sistema dell'arte dicesse guardate che questo che sta accadendo, questa rivoluzione che trasforma il nostro, diciamo che ci consegna un paesaggio inimmaginabile, non esistesse. Al contrario, gli artisti pur essendo, alcuni artisti pur essendo profondamente inseriti nel sistema dell'arte, cominciano a mostrare una certa insofferenza nei confronti di alcune liturgie novecentesche. Ecco dunque che decidono di esporre i propri lavori o soprattutto i propri lavori colti nella fase processuale. Questo a me interessa molto. Mostrare l'opera più come nel suo divenire. all'interno di pinacoteche dilatate, infinite, senza pareti, che vengono arricchite continuamente, senza tener conto in alcun modo delle imposizioni del mercato. Il pubblico di queste pinacoteche è un pubblico liquido, è il pubblico dei follower, dei curiosi. Ed è un pubblico, e attenzione, qual è il senso, cioè il significato di quest'operazione? L'ho accolto ancora Groys in The Flow. Per secoli, ha ricordato Groys, gli artisti hanno concepito le proprie opere come dispositivi per portarsi al di là della vita attiva, per sfidare il presente e per proiettarsi verso, io le potrei definire, le geografie dell'intemporale. È la grande sfida dell'arte. Questa tensione verso l'altrove sembra aver abbandonato le intenzioni di molti artisti contemporanei, i quali invece da un lato aderiscono a quella che è stata definita la sempre più diffusa inclinazione contemporanea, la gamification, cioè il bisogno di giocare, di trasformare tutto in gioco. Ma al tempo stesso questi artisti scelgono di aderire alla media sfera. Non vogliono resistere, cito ancora Groys, al flusso del tempo, ma vogliono collaborare con il flusso del tempo, invaderlo con dei documenti visivi che sono instabili, imperfetti, destinati a, in qualche modo, a entrare dentro quella sorta di sterminato Aleph borghesiano che è il web. Si tratta di opere che vengono sottratte a ogni logica di vendita, opere che vengono defunzionalizzate e che sanciscono, questo è un concetto a cui, sul quale vorrei riflettere con voi, la fine definitiva dell'economia della rarità. Sono opere che non hanno l'ambizione della rarità, dello stato di eccezione in qualche maniera. Eppure sono tutte opere che in qualche maniera rimandano sempre, ricordate prima vi parlavo del rapporto tra mondi e oltremondi? Sono opere che abbiano, abitano l'oltremondo del web, ma al tempo stesso rimandano continuamente a qualcosa che c'è. Internet, ha scritto ancora Groys, è un mezzo di informazione, ma l'informazione è sempre informazione di qualcosa e questo qualcosa si trova al di fuori di internet, ovvero offline. La documentazione artistica fa riferimento all'arte pur non essendo essa stessa arte. Bene, questo è, sono prime riflessioni che rappresentano, diciamo, il primo momento, il primo capitolo del rapporto che gli artisti stanno, diciamo, del tentativo che alcuni artisti stanno facendo per scardinare il grande edificio dell'art world. Poi c'è quello che è successo negli ultimi mesi. Vedete, è molto difficile elaborare delle riflessioni di tipo teorico su quello che è ora in atto. C'era una battuta molto bella di Sartre che diceva, le banane occorre, parlando della critica, diceva Sartre, le banane bisogna mangiarle quando sono mature. In questo caso stiamo parlando ancora di un frutto acerbo, quindi il rischio ovviamente anche di o sopravvalutare alcuni fenomeni o di sottodimensionarli e non interpretarli in maniera adeguata. Però, vi ho parlato, il fenomeno dell'interesse degli artisti per Instagram è un fenomeno che si è manifestato con grande forza durante la stagione della prima pandemia, del primo lockdown. A distanza di un anno l'arte ha avuto un'altra scossa, il sistema dell'arte contemporanea ha avuto un'altra scossa. Tutti ne avrete sentito parlare. Devo dire, mi riferisco ai non fungible tokens. È uno dei fenomeni in questo momento sui quali si sta scatenando una, il termine, il verbo non lo amo, però è così, una enorme riflessione da parte della teoria, della critica dei media, dell'economia, dell'ecologia. Di che cosa si tratta? Tutti probabilmente ne avrete sentito parlare. Addirittura un grande magazine come il Time ha dedicato tre copertine a questo fenomeno. Sette del Corriere della Sera la scorsa settimana, tra l'altro me ne sono occupato io direttamente, ha dedicato la copertina a questo fenomeno. Da tempo non c'era un tale interesse rispetto a qualcosa che riguardava il mondo dell'arte. Di che cosa si tratta? NFT è l'acronimo di questa app di cui si stanno servendo alcuni tra i protagonisti più interessanti e originali del mondo dell'arte contemporanea. Mi riferisco al fenomeno della crypto art. Si tratta di un movimento che è nato dal basso e animato da personalità che amano prevalentemente affidarsi a pseudonimi o a nomi di battaglia, un po' come gli street artist o i writers sostanzialmente, ma non scelgono un diciamo delle vie corsare. Si tratta di un indirizzo dai confini teorici ancora poco chiari, la cui carica tuttavia potrebbe risultare a parer mio ancora addirittura dirompente. Di fronte a questo fenomeno la gran parte della critica si è mostrata ancora in larga parte, nella maggior parte dei casi poco attenta, poco avvertita. È una sorta di nouvelle vague dell'arte. Ha un nome, crypto art, ha tanti protagonisti, il più significativo si chiama un po' come il grande teorico del neoclassicismo, Winkelmann, nome di battaglia come un cartoon, Bipol. Una sua opera è, diciamo, il fenomeno si è scatenato quando nel febbraio di quest'anno una sua opera, un suo collage è stato battuto da Cristis per 69 milioni di dollari. Honetta, io non sono un esperto di mercato, però è molto interessante perché è un'opera che si colloca tra le più quotate tra tutte le opere d'arte contemporanea che siano mai state realizzate. È un'opera poco meno, è al terzo posto dopo il Rabbit di Jeff Koons, è un'opera di Damian Ernst. Ma non è tanto questo interessante, ovviamente noi non parliamo di mercato. Perché questo fenomeno, perché la crypto art merita un'attenzione. Attenzione, non siamo di fronte a una semplice compravendita di quadri o di file riproducibili e interscambiabili con un semplice copia e incolla. No, siamo di fronte per la prima volta dei dipinti digitali che possono essere commercializzati ma non duplicati perché vengono criptati grazie alla tecnologia blockchain che li certifica, ne legittima e ne garantisce l'autenticità e l'unicità. E grazie all'applicazione NFT è possibile creare dei file collezionabili di cui è possibile individuare la proprietà, il valore, la tracciabilità. Vale a dire che oggi esiste un registro online della crypto art garantito dalla firma dell'artista. Vale a dire che è falso ogni lavoro di crypto art che non sia schedato in quel registro. Ma circoli su internet attraverso per esempio i social, i forum o i blog. Qual è il punto di fondo, l'aspetto interessante che in tempi rapidissimi il mercato della crypto art è diventato un mercato che ha delle quotazioni di grandissimo rilievo. Opere che possono essere acquistate anche con crypto valute, c'è un tema molto interessante da questo punto di vista o con valute normali. Quando io ho sentito parlare per la prima volta di questo fenomeno ovviamente l'ho assimilato al fenomeno della net art. È stato un fenomeno che dei primi anni 90 fino al 2000 ha avuto grande importanza. Uno dei grandi protagonisti è stato Antoni Montadas. Cioè autori che si sono serviti con, hanno avuto una grande, un grande interesse per lo strumento della rete, per la progettazione con gli strumenti tecnologici. Certo ci sono delle affinità. Sicuramente la prima affinità è quella di porsi, di aderire a quella che è stata chiamata la linfosfera. Cioè sia i cripto artisti che i net artisti vogliono aderire a quella che appunto ha linfosfera, alludendo con questo concetto a uno spazio relazionale, condiviso e comune, dove noi tutti trascorriamo sempre più tempo e dove si svolgono sempre più attività. Dall'educazione al lavoro, dalla socializzazione all'intrattenimento, dal commercio alla finanza, dalla ricerca al giornalismo. Proprio come gli autori di, come i grandi protagonisti della net art, anche i cripto artisti trattano i computer non come impersonali attrezzi di cui servirsi, ma come, questo è un punto a cui tengo molto, come dispositivi potenti nell'estendere, nell'amplificare, nel moltiplicare la nostra vita psichica. Non sono strumenti. Hanno una funzione di costruire una sorta di vita psichica aumentata. il web per questi artisti non è tanto un, diciamo, una curiosità, ma è un habitat da occupare, con quadri realizzati con strumenti tecnologici destinati a offrirsi a favorire diverse forme di fruizione. Qual è la grande differenza con i cripto, con i net artisti? Siamo di fronte a una forma di expanded internet art, in cui questi artisti non si misurano con il web per mettere in crisi la concezione museale dell'arte. Né vogliono criticare il mercato, né vogliono rompere il patto tra artefice e collezionista, ma, e infine non vogliono, e qui è interessante perché assistiamo a un recupero implicito di Benjamin, non vogliono portarsi oltre il concetto tradizionale di autorialità. vale a dire che la grande sfida, i cripto artisti, diciamo la verità, sono dei barbari, sono dei barbari del tutto privi di ogni tipo di preparazione accademica. Sono dei nerd, la gran parte di questi autori sono dei nerd, dal punto di vista generazionale sono tra i 25 e i 30 anni, sono proprio ragazzini, che vogliono, provano a saldare finalmente arte e web. Poi vedremo, poi capiremo se riescono a fare questa operazione. I loro risultati sono, se andate in rete ne trovate tantissime, sono delle tele tecnologiche, diciamo la verità, piuttosto modeste, decorative, non troppo diverse dalle, dai render degli architetti o dalla progettazione in 2D o in 3D. Sono lavori molto facili da instagrammare, ritorna Instagram, cioè sono facili da postare su instagram, sono piene di citazioni prevalentemente surrealiste, da da lì a masson, ci sono citazioni, ci sono riferimenti politici, per esempio nel collage di Bipol, quello che è stato battuto all'astre, ha avuto un grande successo, è un melting pot, un assemblage di elementi sarcastici legati alla cronaca politica, ma l'aspetto più interessante è che queste opere sono concepite per stare solo, esclusivamente, dentro l'oltremondo. Cioè non sono opere pensate per stare, ricordate quando vi ho citato quel passaggio di Grois, documentazione di qualcosa che comunque è nella realtà. L'online che rimanda sempre all'offline, il mondo che rimanda sempre all'oltremondo. Invece nel caso dei criptoartisti siamo di fronte a opere che scelgono di stare solo nell'oltremondo, solo dentro la rete. E opere che propongono di riattivare sul registro inedito il ritorno dell'idea beniaminiana di Aura. Questo è l'aspetto che a me interessa. Cioè è paradossale se gli autori di cui vi ho parlato prima, quando ci siamo soffermati sul rapporto con Instagram, sembravano voler decretare la morte delle profezie beniaminiane, questi autori, senza enunciarlo e senza consapevolezza teorica, dicono, sembrano voler riaffermare il ritorno, il riaffioramento, sul registro inedito. Io credo che gli studiosi di filosofia dell'arte, di estetica, potrebbero interrogarsi su questo ritorno imprevisto, attualissimo delle teorie beniaminiane. Ecco dunque che in fondo siamo al cospetto di opere che modernissime ma profondamente tradizionali. Sono opere che rivelano il bisogno di reinventare la pittura nel tempo del digitale. In fondo sono dei quadri, dei quadri surrealisti. Sono dei dipinti dematerializzati che sembrano concretizzare una profezia che aveva enunciato Paul Klee agli inizi del novecento. In una pagina dei suoi diari si legge. È sorprendente che c'è una citazione candischiana che è identica. Mi ha sorpreso vedere quando ho scritto su questo tema una voce per la Treccani. La cosa che mi ha sorpreso ho verificato. Non riesco a capire perché lo scrivono esattamente nello stesso anno e nello stesso mese, Paul Klee e Kandinsky. Non riesco a capire chi ha plagiato l'altro. Comunque scrive Paul Klee, quanto più è spaventoso questo mondo come oggi, tanto più astratta è l'arte, mentre un mondo felice produce un'arte dell'aldiquà. Ve la ripeto, quanto più è spaventoso questo mondo come oggi, tanto più astratta è l'arte, cioè smaterializzata, mentre un mondo felice produce un'arte dell'aldiquà. Credo che sia una frase sulla quale sarebbe interessante interrogarsi perché può essere letta aderendo all'affermazione di Paul Klee in relazione esclusivamente all'astrazione, cosa che lui fa, ma noi con una piccola profanazione semantica potremmo anche riadattarla a quello che sta accadendo oggi. La grande sfida di questi artisti è opposta rispetto agli autori di cui vi ho parlato prima, ovvero questi autori scelgono non di scelgono di fare opere che vogliono, sognano di rimanere. Se una delle inclinazioni degli artisti che lavorano su Instagram è, ve l'ho detto citando Groys, di aderire al flusso, di stare dentro il flusso, di sottrarsi a una serie di sogni, di mancata adesione alla vita attiva, questi artisti provano a resistere al flusso del tempo, provano a realizzare delle opere che sognano di rimanere, realizzano delle opere che vogliono essere anche se digitalmente collezionate e addirittura restaurate, provano a realizzare opere che vogliono essere musealizzate e sanciscono il ritorno dell'economia della rarità e decretano l'eterna attualità di valori troppo umani come quelli di originalità e di non replicabilità. È molto interessante. Io credo che sia un tema molto, è un fenomeno simile a una, diciamo, a una matassa inestricabile, cioè di autori che si servono del web e soprattutto del digitale per riaffermare qualcosa che rappresenta storicamente l'anima dell'opera d'arte. Cioè è un tentativo, ricordate prima citando Baricco vi parlavo del dialogo tra le vecchie patrie e le nuove patrie, i vecchi saperi e i nuovi saperi, le vecchie pratiche e le nuove pratiche. Ecco, in questi artisti c'è un tentativo di combinare questi questi mondi. Certo, è un tentativo ancora irrisolto, ancora irrisolto. Un tentativo dietro cui c'è una finalità sicuramente di tipo politico che è quello di mettere in crisi le ritualità del sistema dell'arte, di prendere in contropiede di superare molte mediazioni, il critico, il gallerista, il mercante. Ma non è soltanto questo. L'obiettivo di fondo, dinanzi a questo fenomeno, io credo che la critica sia, e di fronte all'interesse che è così concludo, io credo che la critica abbia dinanzi a sé una missione, che è quella di non guardare altrove, ma guardare a un mondo che chiede di non essere più interpretato appellandosi a categorie in qualche modo desuete. Probabilmente, come spesso succede, gli artisti, anche se ingenuamente o in maniera non consapevole o inintenzionale, hanno la funzione di insinuare dei dubbi anche di, nel proporre delle, delle forme di piccoli terremoti. Il mondo, noi parliamo ancora del mondo dell'arte attraverso, pensando che non sia accaduto nulla nel nostro presente. Sono partito dalla Biennale di Venezia, dalla Documenta di Kassel, che almeno da vent'anni sono uguali a sé stesse. L'interesse degli artisti per Instagram e soprattutto i non-fungible tokens e la crypto art ci dimostrano che qualcosa sta accadendo, non sappiamo cosa succederà. Sappiamo che la crypto art oggi è un bivio, può rimanere giovane condannandosi a una rapidissima obsolescenza, come tanti fenomeni di moda, oppure può provare a risolvere alcune approssimazioni, alcune aporie e può diventare, per esempio, uno stile meno meccanico, lontano dalle soluzioni adottate dagli architetti nel loro render. Può sperimentare stratagemmi, per esempio, per ridurre l'impatto ambientale suscitato dalla produzione di blockchain o di non-fungible tokens. È un tema del quale non vi ho parlato, ma la produzione, c'è un dato che a me ha sorpreso, riportato da Time, che addirittura la creazione di un'opera di crypto art sfrutta una quantità di energia pari a un volo in aereo di due ore a un viaggio di 500 miglia su una tipica automobile americana. Cioè una quantità mostruosa di energia. Quindi in un tempo nel quale gli artisti si stanno interrogando a lungo sui temi della sostenibilità, dell'impatto ambientale, sicuramente ci sarà una riflessione da fare su questo. Eppure se il fenomeno della crypto art riuscirà, dei non-fungible tokens, riusciranno a diventare adulti, io sono convinto che assisteremo a una piccola, sotternania e decisiva rivoluzione copernicana nel sistema dell'arte. Un piccolo tsunami che potrebbe mettere radicalmente in crisi le liturgie proprie dell'art world. Ma chiudo con due domande. La Biennale e la Documenta di Castle sono pronte a porsi in ascolto di questo terremoto? E infine, quando l'arte finalmente uscirà dal novecento per entrare nel nostro tempo? Grazie.